C'è l'ombra della malavita dietro la bomba che ieri sera affoggia in via d'Aragona ha fatto saltare in aria l'automobile del responsabile del personale di una nota RSSA del capoluogo Dauno. Una deflagrazione impressionante, dicono i testimoni, che ha danneggiato anche sei vetture parcheggiate, la saracinesca di un'attività commerciale e le vetrati di diverse abitazioni. L'amministratore sanitario finito nel mirino della criminalità organizzata era già stato oggetto in passato di richieste di pizzo e di assunzioni da parte di due esponenti del clan Moretti Pellegrino Lanza. Estorsioni descritte nelle carte dell'inchiesta decimazione con la quale nel novembre del 2018 era stato inferto un duro colpo alla mafia foggiana portando all'arresto di 30 soggetti e alle richieste di condanne per 300 anni di carcere. Solo un caso fortuito ha voluto che al momento dell'esplosione udita per la sua violenza in diversi quartieri della città non transitasse in zona nessuno. L'amministratore sanitario obiettivo dei criminali stava uscendo di casa con in braccio una bambina di pochi mesi quando la piccola ha avvertito un malore che ha costretto l'uomo a rientrare nell'abitazione. Pochi istanti dopo la sua macchina è saltata in aria. Una tragedia sfiorata a 24 ore di distanza dall'omicidio di Roberto D'Angelo, 53enne commerciante di auto raggiunto in viale Candelaro da tre proiettili esplosi da due sicari a bordo di una motocicletta. Anche in questo caso l'esecuzione appare di matrice mafiosa. Il racket delle estorsioni si è invece materializzato nella notte di capodanno con tre attentati intimidatori ai danni di due bar e di un centro estetico, un 2020 che per la città di Foggia si apre all'insegna della paura.